La diocesi di Andrea ripropone il progetto I Have a Dream, un'azione di contrasto alla povertà educativa. L'iniziativa è rivolta ai minori dalla quarta elementare alla terza media. Sentiamo. In vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, torna il progetto della Caritas di Andrea a I Have a Dream, Imparare crescendo, rivolto ai minori dalla quarta elementare alla terza media, con l'obiettivo di potenziare l'apprendimento didattico per colmare le lacune solo in alcune materie e contrastare il fenomeno della povertà educativa, ovvero dell'abbandono scolastico presente sul territorio locale. Il progetto rappresenta anche uno spazio di socializzazione in cui i ragazzi possono sperimentare l'autonomia nell'organizzazione dello studio, sviluppando un metodo di studio personalizzato. Per questo è determinante la collaborazione tra la famiglia e la scuola. Infatti, tra i destinatari della proposta, ci sono anche le famiglie che hanno difficoltà a sostenere la spesa economica necessaria per il sostegno scolastico. Nella sede della Caritas Cittadina è inoltre disponibile la condivisione dei libri, il cosiddetto book sharing, dove è possibile prelevare testi di narrativa e altri sussidi per ragazzi e adulti. Nelle diverse attività, che si svolgeranno nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, e il sabato mattina in orari concordati dopo l'inizio della scuola, ci saranno i giovani in servizio civile e i giovani volontari dell'anno di volontariato sociale, in affiancamento ai tutor. Per iscriversi è possibile rivolgersi direttamente alla Caritas Diocesana in via Enrico De Nicola ad Andrea, inviare una e-mail all'indirizzo info-caritasandria.it oppure scaricare la scheda di iscrizione dal sito web www.caritasandria.it